C'era una volta, sulle Alli del Vento, un'aquila. Questa è la sua storia e quella di un ragazzo. Abel, sei stato bravo! È cominciata molto tempo fa. È venuto al mondo da principe. Perché i suoi genitori erano il re e la regina di questi cieli. Come sta, Lucas? È un ragazzo solitario. In qualche modo, il loro destino era già scritto. Non aver paura, non ti farò del male. L'ho presa! È per te, Abel. Devi sbattere velocemente le ali. Avanti, devi imparare a volare. È ancora troppo giovane. E poi, devi fare così. Quindi, come va a finire? A volte, nella vita, devi avere il coraggio di scrivere la tua storia. Che l'hai fatta? Vai, Abel! Abel, il figlio del Vento. Ho trovato un amico. Credo sia lui ad aver trovato te. Il figlio del Vento. 12 o. Il figlio del Vento. Probabilità è un dialecto스러to. Doc.